Allora, IASAP, io Paolo ti chiederei di accomodarti già al pianoforte, Sara ci parli della vostra esperienza all'undicesima edizione di Premio Lucio dalla il 2 di dicembre scorso. Una bellissima esperienza, tant'è che adesso siamo ritornati qui per la stima che nutriamo nei tuoi confronti come organizzatore. Facciamo un applauso a Maurizio perché lo merita, ci mette veramente il cuore, oltre a tutta la tua professionalità, è stata una bellissima esperienza e volevamo ritornare sul palco con te. Caffè pagato. Allora, Sara e Paolo ci presentate lo stesso brano che avete presentato a Roma, il titolo? La vela. IASAP. 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 Spalancherò la vela, riempiendola d'amore. E quando nel cielo mi andrà di ritornare, abbatterò la tua vita, e quando nel cielo mi andrà di ritornare, l'orgoglio truffandomi nel mare, a volte vi guardo vedendovi passare, col vostro passo incerto e il vostro tondolare. Ma non so qual è il mio dove, il nido di partenza, la mia direzione, mi alzo in volo con tutto il cuore, spalancherò la vela, riempiendola d'amore. E... 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 Aprite quella braccia per raccogliere la gioia, Spaladel atravata, portatevi alla noia! Dio vi vuole il libero di mirare le sue stelle, di alzare gli occhi al cielo per le immagini più belle. Non siete miserabili e non mi fatevi pregare! Dio vi vuole il libero di in grado di pescare, di sf controllo della porta, abbandonare quella piazza, Strappare via la carta che mi porta dritta alla casa Dritta Grazie